giornata spettacolare caldo incredibile oggi è il 31 luglio del 2022 e ci troviamo davanti la spiaggia di tavoli marina con un amico che il signor che lavora con la ditta diciamo di pescatori spinella super abbronzato come va quest'anno il lavoro come va ci sarà una ripresa secondo me ce ne verrà gente ad agosto qui c'è il nostro amico ci guava guardate che meraviglia il mare ho visto che il mare si è mangiato la spiaggia e però il fondali sono stupendi in sabbia bellissimo oggi è una giornata meravigliosa ci troviamo a san sostene marina proseguendo si va verso tavoli guardate meraviglia più bello di soverato qua adesso perché diciamo e c'è più tranquillità e ci sono un sacco di famiglie è soverato un po diventato una casba troppo casino giusto a sera sì al giorno non lo so la sera si sa che soverato è così guardate che meraviglia adesso andiamo verso soverato con gli amici oggi ci siamo fatti un super bagno io non sono stato tanto bene la glicemia si è abbassata regolarmente ho dovuto correre i pari cercando un baretto per barmi qualcosa di dolce purtroppo questo è il diabete anche quando fa molto caldo bisogna in qualche modo ridimensionarsi perché non si è più giovane a 46 anni bisogna il diabete è così va trattato bisogna sempre portare qualcosa di dolce dietro guardate che meraviglia gli ombrelloni non si vedono bene perché c'è questa specie di duna di conca e poi si scende verso il mare un saluto a tutti da gij